Il pieno dell'auto costa sempre di più, se ne sono accorti soprattutto gli automobilisti che sono partiti per le vacanze o quelli che si accingono a farlo in questi giorni. La corsa dei prezzi dei carburanti sembra non arrestarsi, condizionando non poco l'esodo estivo. Il prezzo della benzina in modalità self supera 1,90 euro il litro, il gasolio 1,70 euro. Fare rifornimento in autostrada costa ancora di più a causa dell'applicazione delle royalties con i prezzi che sfiorano i 2 euro il litro. Prezzi record visto che per la benzina siamo ai massimi da fine luglio 2022, quando era in vigore lo sconto sull'accisa di 30 centesimi al litro, mentre per il gasolio il prezzo è il più alto da metà aprile. Automobilisti e associazioni di consumatori sono sul piede di guerra, al punto da indurre il governo ad intervenire con il cosiddetto decreto carburanti entrato in vigore dal 1 agosto, che prevede l'esposizione in tutte le aree di servizio anche di un cartellone sul quale è indicato il prezzo medio regionale dei carburanti, oltre ai prezzi già praticati. Una sorta di operazione di trasparenza, come l'ha definita il ministro dell'impresa Made in Italy Adolfo Urso, che invita i cittadini a denunciare eventuali aumenti anomali dei prezzi sul sito del ministero o alla Guardia di Finanza, previste multe per i gestori che non aderiscono. Sul sito del ministero sono stati pubblicati i prezzi medi nelle varie regioni e il molise e quello del gasolio self-service è 1,769 euro, mentre quello della benzina è di 1,914 euro. Il GPL servito si attesta su 732 centesimi al litro, il metano a 1,423 euro. I prezzi collocano il Molise a metà gradatoria, i prezzi più alti sono quelli della provincia autonoma di Bolzano e della Puglia, sotto la soglia di 1,90 euro, le Marche e il Veneto. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, a tutti voi una buona serata. Grazie per aver guardato il nostro video.